Ciao anime meravigliose, come state? È un piacere essere qui con voi. Oggi faremo una lettura angelica valida per una settimana dal momento che la state guardando. Utilizzeremo tre mazzi di carte, faremo una lettura unica, quindi chiedo durante la preghiera di protezione di chiedere al vostro sacro cuore quali sono i messaggi più giusti per voi e per il vostro massimo bene. Quindi chiedete al vostro cuore, all'arcangelo Michele e agli angeli di darvi messaggi più giusti per voi e per il vostro massimo bene. Iniziamo con una bella preghiera di protezione. Invoco la divina presenza di Dio Dea onnipotente, padre e madre, i miei angeli custodi, il mio sé superiore, gli angeli custodi e il sé superiore di tutte le anime che con tanto amore mi seguono. Invoco te, arcangelo Michele, maestro Gesù, Maria Regina Celeste, coscienza micaelica e con amore vero, puro e sincero vi chiedo di purificare la nostra energia, le nostre intenzioni, parole ed azioni e di elevare le nostre energie, vibrazioni e frequenze, aiutandoci a sintonizzarci nella frequenza dell'amore più puro ed incondizionato. Arcangelo Michele ti chiedo di radicare la nostra energia fino al centro della madre terra e di creare uno scudo di protezione completo, impenetrabile all'oscurità, dove possa entrare solo la luce e l'amore più puro e vero di Dio Dea onnipotente, padre e madre. Chiedo massima protezione fisica, psichica per me e per tutte le persone coinvolte, che possano arrivare i messaggi più giusti per tutte le persone possibili. Grazie caro Dio, grazie arcangelo Michele, grazie al maestro Gesù, grazie a Maria Regina Celeste, è fatto, è fatto, e così è, così sia ora, per sempre, per l'eternità. È uscita la carta della musica mentre mescolavo le carte, vediamo un attimino. Problema risolto nel momento presente, quindi presente, ok vediamo un po', possibile guarigione per il prossimo futuro, vediamo un po' le carte degli unicorni, vi piace l'arcangelo Michele dietro di me? È bellissimo, ok vediamo un po', discernimento, ok, discernimento, polarità, questo è interessante per il momento presente, vediamo un po', la Dea, il Divino Femminile, le Dee, le Dee, comunque il Divino Femminile, no Dea, Dea dovrebbe essere Goddess, no Dea, il mio inglese incredibile, aspettate sono cadute troppe carte, vediamo un po', eccola qui, pratica, queste sono le carte dello scopo della vita, quindi vediamo nello specifico il messaggio per voi, pratica anima infinita, luce e amore, se un'operatrice di luce e di amore, momento presente, vediamo prossimo futuro, l'energia del momento, se ne sono saltate due contemporaneamente, giustizia ed espressione creativa. Ora vediamo un po' nello specifico, innanzitutto gli angeli e le fatte, gli esseri della natura ti stanno dicendo che hai bisogno di elevare le tue vibrazioni e le frequenze, puoi fare questo ascoltando della buona musica, sia durante la meditazione, mettere della musica rilassante a 432 hertz per innalzare le tue frequenze, per sintonizzarti nel tuo sacro cuore, questo può essere un aiuto incredibile, straordinario e in più potresti ballare, cantare e esprimere la tua anima, perché la tua anima anche attraverso la danza, attraverso il movimento del corpo, diciamo, vengono sbloccati tutti quei blocchi energetici che ti stanno tenendo un po' troppo nelle basse frequenze, quindi è venuto il momento di esprimere la tua creatività, va bene? Non preoccuparti, il problema, diciamo, ti stai un po' preoccupando per una certa situazione, diciamo che le tue preghiere sono state ascoltate, il problema è risolto, quindi devi stare tranquilla, devi stare tranquillo, va tutto bene, andrà tutto bene, non c'è niente veramente di cui ti devi preoccupare, ok? Per quanto riguarda, infatti, alcuni di voi questo problema, questa problematica, questa preoccupazione può riguardare la salute tua o dei tuoi cari, è un problema risolto e c'è il potenziale di una guarigione, magari puoi apportare i cambiamenti necessari nella tua dieta, nella tua alimentazione, anche per avere più energia vitale, anche per essere più centrata, più radicata, privilegia i cibi vegetali, meno articolati, meno come un additivi, quindi più cibi della terra, uscire nella natura, so che c'è freddo in molti posti dell'Italia, anche qui in Sardegna, ultimamente sta facendo abbastanza freddo, però uscire anche quei cinque minuti, prendere una boccata d'aria, quella mezz'ora per fare una camminata, aiuta ad innalzare le tue vibrazioni, le tue frequenze e comunque potresti anche rivolgerti a un buon guaritore o un coach o qualcuno che ti può aiutare nella tua situazione specifica, c'è il potenziale veramente di una guarigione, anche guarigione in una relazione, va bene? C'è il potenziale ma ci deve essere la volontà da parte di tutti, di entrambe le parti, va bene? Ok, quindi è un potenziale, non è una cosa certa, ma se tu focalizzi la tua energia presente nella direzione di un risultato ben preciso, sentendo, vibrando e percependo che questo è già avvenuto, assolutamente tu lo puoi manifestare nella tua bellissima vita. Ok, anima meravigliosa? Ok, in questa situazione l'arcangelo Michele dice che è importante il discernimento, c'è una situazione che ti sta, cioè non sai che decisione prendere, sei un po' spinto dalla mente, ricordati che i pensieri negativi ti fanno vedere tutto nero, quindi ti prego, ascolta l'anima, ascolta il cuore dove ti stai indirizzando, hai delle sensazioni negative rispetto a un lavoro, un evento, una situazione, un luogo dove non vuoi andare, una persona con cui non vuoi uscire, una persona che stai allontanando, ascolta il tuo sentire, utilizza il tuo discernimento, ti hanno anche riferito, naturalmente non è per tutti, è un messaggio per alcune persone, delle informazioni che riguardano una persona o più persone, usa il discernimento, non credere a tutto quello che ti viene detto, tu sai la verità, tu conosci il tuo cuore, ascoltalo e non credere a tutto quello che viene detto, ok? Diciamo che viviamo in un momento, in un mondo, in un in un mondo, non in un mondo, in un in un sistema tridimensionale dove esiste la dualità, ok? In questo momento è importante appunto il discernimento, da che parte stai? Da che parte stai? Stai dalla parte della paura o stai dalla parte dell'amore? Perché se hai scelto la via maestra dell'amore devi pensare, sentire, agire nella direzione dell'amore e lasciare andare rabbia, risentimento, paura, dolore, sofferenza, come? Attraverso il processo di una grande accettazione del passato e di un grande lavoro sul perdono e sulla compassione che serve a te, è una forma di sano, non egoismo, di sano amore per te stesso, per te stessa, per liberarti dal caos, dalla paura e dal passato, quindi irradia la tua luce, guarisci il lato scuro, abbraccialo, ma non che lo devi integrare in te, lo devi guarire, come in alchimia viene chiamata quando tu trasformi il piombo in oro, è un processo alchemico di trasformazione, ebbene chi vuole raggiungere l'illuminazione, l'ascensione, chiamatela come volete, illuminazione non vuol dire altro che attingere a più luce, che irradiare più luce di quella che noi abbiamo dentro, quindi essere più vicini alla nostra vera natura, ragazzi non vuol dire ah io sono illuminato, non vuol dire io sono chi io sono, in nome del mio pieno potere divino, ok? E quindi è importante trascendere l'ego, è importante trascendere il giudizio, è importante discernere, è importante riconoscere l'ego e guarirlo, è uscirne perché non sei tu, è la tua finta personalità che è stata costruita da sistemi di credenze che hai assorbito dagli ambienti e dalle altre persone, ok? Per fare questo è importante attingere anche al divino femminile, quindi al potere spirituale che noi abbiamo, a quello che è il nostro emisfero destro, quindi la razionalità deve essere utilizzata a favore dell'anima e non vivere nella mente, perché tu non sei la mente, tu sei l'anima, la mente è uno strumento che ci serve per fare determinate operazioni, per scrivere, per creare, ma è a servizio dell'anima, l'ego vuole invece che sia la mente a gestire la tua vita, quindi trascendi l'ego, esci dalla mente, entra nel cuore, attinge al divino femminile, integra il divino femminile, ricordati che il divino femminile rappresenta anche l'energia del ricevere, ricevere abbondanza, ricevere prosperità, ricevere amore nella tua bellissima vita. Ora sei chiamato, sei chiamata a vivere lo scopo divino della tua anima e c'è bisogno di fare pratica, cioè se sei uno speaker, se sei uno scrittore scrivi, se sei uno speaker parla, esprimiti, fai vedere la tua luce al mondo, una volta che tu sei connesso con la tua grandezza, è venuto il momento di portarla fuori, è un invito a fare questo, quindi hai bisogno solo di fare pratica, hai appena concluso un corso di guarigione, per esempio quelle mie allieve che hanno concluso il corso di guarigione con me. Bene, pratica, 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 perché questo ti dà la maestria, ti dà la conoscenza, ti dà la forza di andare avanti, di metterti in gioco e di farti conoscere dal mondo intero. Ebbene sì, anima infinita, tu sei un operatore, un'operatrice della luce e sei chiamato, sei chiamata a portare luce in questo pianeta meraviglioso che ha bisogno di noi, ha bisogno di te. Non preoccuparti, non sei tu a fare giustizia, ma tu diciamo che anche attraverso il tuo esempio, irraviando la tua luce, porti giustizia in questo mondo per tutti quelli che nel passato non hanno potuto esprimere la propria anima, ma tu in questa vita lo puoi fare, va bene? Diciamo che tu porti protezione per le altre persone, tu lavorando a stretto contatto con l'arcangelo Michele riuscirai a fare giustizia in una certa situazione che ti sta a cuore. Quindi la giustizia, il senso di giustizia che hai dentro è legato alla forte chiamata dell'anima di fare qualcosa per fare la differenza, per creare un paradigma di amore, uscire dalla 3D, uscire dal caos che vive nella 3D, ok? Come anima infinita? così, attraverso la tua espressione creativa dell'anima, ripeto, se uno speaker inizia a parlare, come? Con i social, l'anima infinita, voglio dire, grazie a Dio oggi possiamo comunicare in tutto il mondo, in tutta Italia, in tutto il pianeta, abbiamo la possibilità di far sentire la nostra voce anche attraverso la scrittura, attraverso una canzone, attraverso il modo giusto per te, per te anima infinita, perché tu sei tenuto, sei tenuta a fare questo, perché questo fa parte dello scopo divino della tua anima. Bene, anima infinita, abbiamo concluso la nostra lettura angelica, volevo chiedere a Dio agli angeli e all'arcangelo Michele di aiutarci attraverso questo libro per portare un messaggio a tutte le persone coinvolte per il massimo bene supremo. La realtà è sempre irregolare. Non è possibile creare un ordine che ci permetta di capire, controllare e dirigere. I nostri schemi mentali sono solo una mappa imprecisa, mai aspettarsi di ritrovarla con esattezza nella realtà, ok? Diciamo che è venuto il momento di riprogrammare il tuo inconscio, di mettere nuove informazioni, di uscire dall'ego e di fare affermazioni ben precise del tuo allineamento divino tra la tua parte umana, la tua parte divina, quello che vuoi creare nella materia. Inizia ad affermarlo, è vero, non arriverà nel modo esatto in cui tu lo stai chiedendo, ma arriverà meglio, perché se tu vibri in una frequenza di luce, di amore, di abbondanza e ti stai aspettando cose meravigliose nella tua vita, ebbene possono arrivare solo cose grandi nella tua vita, persone grandi, eventi straordinari, sincronicità divine, miracoli di guarigione, miracoli infiniti in ogni aspetto della tua bellissima vita. Bene, anima infinita, per questa settimana la nostra lettura angelica si è conclusa. Volevo ricordarvi che mi occupo di facilitare letture angeliche, sessioni di riequilibrio energetico in presenza se siete ad Alghero o a distanza in qualunque parte del mondo in cui vi troviate, ho pochi posti disponibili. Per quanto riguarda invece i corsi, o per imparare a connetterti con i tuoi angeli, con Michele, con la coscienza micaelica, il corso di connessione angelica è di nove settimane, un corso online su Zoom, da casa ma dal vivo, inizierà il 26 gennaio 2024. Se invece vuoi imparare a connetterti con le nuove frequenze di luce, non hai la possibilità di venire in presenza, il corso online di nove settimane partirà dal 26 febbraio 2024. Se invece tu, anima meravigliosa, vuoi vivere il seminario in presenza, vuoi conoscermi di persona, vuoi interagire con le persone, perché hai bisogno, se è una persona più cinestetica, hai bisogno di vivere il contatto, per così dire, allora puoi, la presenza, allora puoi partecipare al mio seminario che si terrà dal 23 al 26 marzo 2024. Ok, maggiori dettagli qui sulla locandina, se hai vuoi maggiori informazioni, non esitare a contattarmi a San Donato Milanese a marzo e invece il seminario in presenza sulla guarigione energetica con le nuove frequenze di luce sarà 25 al 28 maggio 2024. Bene, anime meravigliose, io vi saluto, vi abbraccio, a presto, alla prossima settimana, buona settimana a tutti, ciao ciao!